Giovani buongiorno e ben ritrovati sul canale Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis Signori carriera allenatore Neapolis siamo nel girone di ritorno Questa è la prima del girone di ritorno signori Cagliari Neapolis Il Cagliari attualmente dove sta in classifica? Il Cagliari è quarto in classifica, noi siamo ottavi Stiamo tutti lì, il bello della serie B è questo L'obiettivo stagionale lo sapete è andare direttamente ai playoff se non ci dovessimo riuscire ragazzi va bene così Allora vi volevo farvi dire una cosa perché nell'Ub Rosa Allora schemi giocatori, ok Nell'Ub Rosa ragazzi io ho fatto l'offerta al Buon dove sono? Aspettate un attimo Ok io ho fatto sia la proposta a Lopez e a Moretti Moretti signori miei non vuole prolungare il contratto con noi Andiamo a vedere, vedi non ci fa negoziare il contratto né con Lopez e né con Moretti Però sono riuscito a fare anche il contratto a Fontana Russo signori se non sbaglio Russo ha accettato C'era un giocatore che aveva accettato addirittura il contratto di un anno Allucinante, allucinante, forse era proprio Villa o Coppola Ora non mi ricordo chi erano di questi Comunque hanno accettato il contratto per un anno Ragazzi io scusate ho sbagliato Più di questo non so che fare Le finanze sono quelle che sono Comunque andiamo in campo e giociamoci questo benedetto Cagliari-Neapolis Signori sfida al vertice della Serie B Quindi Waiu Cagliari 19 gol subito in 19 partiti di Serie B Quindi speriamo di fargliene qualcuno anche noi Sapete no? Giustamente vediamo se riesco a posizionare bene le luci Che si vede Forse così va bene Allora signori ci siamo? Ci siamo Inizia si comincia Cagliari-Neapolis Andiamo Waiu Servono i tre punti Dopo la grande prestazione sia con il Monza sia con il Bari Servono i tre punti Dai dai Ciao Pierre Sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio E voi amici a casa ascoltate Mamma mia Leo che mostro ragazzi Che mostro Leo Uh Fontana Bello c'è Russo Bello c'è Russo Russo va Russo Il tiro Perché non hai tirato prima? Perché non hai tirato prima Palo? Perché non hai tirato subito? Perché? Perché? Accidenti all'Etucorna Perché? Bravo Fontana Ragazzi Fontana dovrebbe aver fatto 11 gol in 11 partite di Serie B Mostruoso Mostruoso il buon Fontana Io ce l'avevo in panchina Pensate Io ce l'avevo in panchina Attenzione alla Padula Attenzione Bravissimi tutti Bravi 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 Su Esposito C'è Leo subito Prova a farsi vedere è fuori gioco Eh l'ho vista subito Attenzione a Pavoletti Attenzione alla Padula Bravi tutti Bravo Coppola Bravo Lopez Bravissimo Lopez Kovacevic Fontana Uno che si muove Bravo Russo Peccato Forse gliela dovevo dare alta Peccato veramente Peccato Attenzione a Rog Ex Napoli Occhio a Rog Occhio a Rog Che la mettere in mezzo La Padula Ah Rossi sotto le gambe No Rossi sotto le gambe No 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 Vabbè ci abbiamo tempo ragazzi Dai Dai ci abbiamo tempo Su No No mi voglio C'è questa Questo fascio di luce Dà una noia Allucinante Attenzione buono Russo Russo Oggi che stai combinando Non mi stai piacendo oggi Russo Oggi Non va bene Non va bene per nulla Russo Dai Cerchiamo di svegliarci Forza Si mette sulla traiettoria E su il pallo Andiamo subito sugli altri campi Perché c'è un gol Che riguarda il match del Brescia Prima rete della partita Per il Brescia Tanto il Brescia vince Dai Dai Russo Su Russo Sprint e vai Non c'è nessuno però La voce a Fontana Fontana Proci Fontana Traversa Non ci voglio credere Traversa di Fontana Dai 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 Neapolis Forza Forza Neapolis Lopez Gira Esposito Va Esposito Va Sprint e vai Esposito Va Uh Qualche modo è arrivata Eh perché non abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato tutto Occhio a Gaston Peredo Occhio Siamo scoperti Uh Non è fuori gioco Albitro Bravissimo Coppola Covacevic Bello Fontana Oh Fino di primo tempo Peccato Traversa di Fontana Ragazzi Noi ci siamo Forse stiamo giocando Anche meglio del Cagliari Eh Però Attualmente stiamo perdendo Non si sa come mai Vediamo nel secondo tempo Di fare qualcosa Come on ragazzi Dai Sanchez Gira tutto Russo Villa Andiamo tutti fermi Va bene così Sanchez Ah peccato 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 veramente Bravo Lopez Il numero Covacevic Dentro Eh Bravo Leo Bravo Moretti Vai Fontana Vai Fontana Fontana 1 a 1 Come on Fontana Prendi palla Fontana Prendi palla e andiamo Prendi palla e andiamo Fontana Dai 1 a 1 Forza Bravi così Bell'inserimento di Fontana Bravissimo All'attaccare la profondità Bravo 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 Attenzione però Ora eh Attenzione Non facciamoci fregare Non facciamoci fregare Attenzione 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 a Zappa Attenzione 1-2 Attenzione a Zappa Nel mezzo Mamma mia esposito Albitro Albitro Era fallo Albitro Albitro Era fallo Su uno che si muove Bravi Sieden 2 Bravo Villa Bravo Villa Sprint e vai Guarda Guardalo nel mezzo Guardalo nel mezzo Annaccio Peccato Pensando alla padula ancora Eh Aio Villa Villa Mostruoso Villa Uh È pericoloso Pericoloso Maronna mi Lopez Maronna mi Lopez Esposito va Uno che parte Uno che parte Ah era fuori gioco Tanto Era fuori gioco Uh Sanchez Bravo No Che brutta palla No 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 Si è aperta la difesa Si è aperta la difesa Io non ci voglio Non ci voglio credere Mi si è aperta del tutto La difesa Si è aperta la difesa Malissimo Voglio Eh Ora Non lo so Proviamoci Bravo Fontana No Guarda che culo Che c'hanno Guarda che culo Voglio serve Pressing Bravo Villa Dai 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 Su Buono Buono Vai Leo Vai Leo Vai Leo Spinte Vai Il mezzo Madonna mia Madonna mia Su 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 Almeno il pareggio Su Ma va a cagare Dai Non è possibile Ma dai Bravo Coppola Su Kovacevic Sanchez Ma no Sanchez Madonna mia Vai Leo Sanchez Madonna mia Sanchez No È finita Vai Leo È finita Dai Poi sto bastardo Ci metti pure Tre ore Per rinviare Ma come si fa No Guarda che bastardo Giocano in difesa Guarda che bastardo No Maledetti 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 È finito Vaglio Nella mano Comincia malissimo Il girone di ritorno Vaglio Comincia malissimo Il girone di ritorno Io ho quel poli Vaglio Il mister ha apprezzo la decisione Sono rimasto Sono felice Va bene Va bene Apprezzo la sua decisione Di rinnovarmi il contratto Peccato Pavoletti Adore del gol partita Contro la squadra Neapolis Vaglio Vaglio Como Abbiamo un conto in sospeso Con il como La classifica di serie B Siamo andando allo posto Siamo scesi Vaglio Siamo scesi Gestione No Non gestione squadra Scusa Sanchez Vaglio Sanchez Sta inguaiato Vedi Io ho poli Ma poli È un atti Facciamo così Aspetta Non me lo posso mettere qui C o C Mettiamolo C o C E Kovacevic Lo mettiamo Dietro di lui Non si può mettere Ah eccolo qui Eccolo qui C di C C di C Non va bene Ce l'abbiamo un C di C Abate Dammi un po' conguaiata Proviamola così Pur esposito Non ce la fa Proviamo Ricci Però Ricci Non è un terzino sinistro Non è un terzino sinistro Vabbè Lasciamo così Il buon Sala Non è malvagio È Sala Comunque Andiamocela a giocare così Andiamocela a giocare così Aspetta Devo cambiare le maglie E ce la giochiamo così Ok Ok E così Andiamo Andiamo dai Peccato Perché contro il Cagliari Parte la traversa presa Veramente un peccato Prego Competizione 35 Fontana E a 12 gol Buono Buono Andiamo Comuneapolis Si comincia Si comincia No dai Subito fallo così Subito fallo così Sì Attenzione 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 Dai Vai Occhio Ragazzi Occhio Eh Dai Occhio Occhio Bello 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 Poli Bello Poli Che inserimento di Poli 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 davanti al portiere Non te lo cagare Poli 1 a 0 Come on Poli Su Su Bravi In contropiede Bravissimi Poli 1 a 0 1 a 0 Forza 5 gol In 11 partite Poli ragazzi E' sempre stato il mio pupillo Però dopo il cambio modulo Non l'ho più potuto usare Il problema è proprio il cambio di modulo Attenzione Attenzione a Gatto Gatto Aiu Aiu A Mangosu Rossi Mostroso Rossi Mostroso Bravo Rossi Dai Forza Attenzione Fuori questa Rossi ancora Rossi ancora Attenzione A Bella Bellemo Bellemo Scusate Poli Bravo Lopes 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 Queste cagate Lopes 1 a 1 A stronzata Abbiamo fatto la prima stronzata che abbiamo fatto Abbiamo preso subito il gol Good 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 No dai dai Che cavolo Questa cosa non la sapevo Questa cosa di questo passaggio così non la sapevo Fontana Fontana In aria di rigore Fontana 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 Subito Subito in vantaggio di Neapoli Scamone Andiamo Guarda lì che giocatore Che giocata di Fontana Pum Di sinistro Aggiorniamo lo score di Fontana Mostruoso il ragazzo Mostruoso Andiamo Mettiamo subito le cose in chiaro Forza Che questi ci hanno battuto alla partita dell'andata Ce l'ho ancora legata al dito Vaiù Attenzione a Kerrygan Aggiù Occhio a Baselli Occhio a Baselli Rossi Su Bravo Bella Ma è Leo Madonna mia se passava Uh bravo È nostra ancora Guarda c'è Russo 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 Contraversa Un'altra volta Incredibile Vaiù Moretti A giro La palla è sempre lì Dai dai Bravo Kovacevic Così in pressing Attenzione al contropiede Dai Esposito Dai Esposito Su Su Esposito È già morto Esposito Vaiù Bravissimi Dai Ultima azione Se ce la fa fare Kovacevic Dentro Non ce la fa finire Ok Ok dai Ribaltata Ribaltata Voglio Vai così Bene 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 Secondo me mi sa Faccio entrare Sanchez Vediamo un pochino Dai Bravissimo Poli Il corno che tiene Poli Bravo Attenzione al cross Calvo Stay soft Diglielo Soft Guarda c'è Leo Bravo Bravo c'è Leo Guarda Moretti è partito Guarda 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 Poli Guarda Poli L'avevo data a corso Però va bene Russo Russo sfonda la porta Madonna Per poco Per poco Bella azione Ricci per Villa Sì facciamo questo cambio Dai Facciamo questo cambio Sempre più spinta Dobbiamo avere più spinta Dai Ricci Mi raccomando Non ci ha accorto Dai Ricci Bravo Ricci E ora sprint Ora sprint Ora sprint Ricci Si è appena entrato Guarda c'è Moretti Guarda c'è Birra Moretti Guarda c'è Moretti Tasi è defilato troppo Poi buona Poli Madonna Stiamo sprecando troppo Dai Ricci Che si è appena entrato Ma io so C'è Sposito Non ce la fa più Lopez Mostruoso Ma Giro palla così Bravi Facciamogli aprire Bello Largo così Bravo Madonna Mi Fontana Madonna Mi Fontana Per la doppietta Fontana Zanotti Madonna Russo Siamo spiegando Stai spiegando troppo Oggi questo è il primo Di riporto che ci fanno Ce lo buttano Sono convinto Sono convinto C'è Sposito Non ce la fa più Moretti Fontana Allora Ricci Ricci Fontana Ah Gioca così Vai vai Si devono Tutto chiuso Uh bello Poli Bello Poli Poli Zanotti Bravo Bene così Addormentiamo Addormentiamo il gioco Vai Addormentiamo il gioco Bello Fontana Non ci poteva stare E fa L'albito Attenzione Perché siamo tutti Scoperti Perché siamo scoperti In difesa Perché siamo scoperti Rossi Rossi Bravo Rossi Madonna mia Io ve l'ho detto No Questi Fanno un tiro e segnano E stiamo Poi Là Dai Minuto 87 Dai Stiamo vicino al traguardo Di battere il como Ah Fontana Vai Poli Vai Poli C'è il bianco da monetti Non ci voglio credere Non ci voglio credere Perché è stronzato Fai Attenzione Al contropiede E' finita E' finita Meno male Meno male Meno male Meno male Uff E' finita Aiuto Ragazzi Non si poteva Perdere nuovamente Con il como Era impossibile Perdere nuovamente Con il como Cioè Ciò che abbiamo perso La prima partita Di andata E' clamoroso Dai Bene così Forza ragazzi Uff Bene Ma con l'intervista Dopopartita Avanz Vediamo dove siamo In classifica Intanto il Cagliari Ha vinto pure Contro il Frosinone Forse il Frosinone Era davanti a noi Qualcosa abbiamo recuperato Al Frosinone Classifica Coppa Italia Voglio La Coppa Italia Ce la giochiamo Contro il Verona Contro l'Ellas Verona Bene Va bene così Allora Io l'altra volta Ho visto la classifica Dove ero andato Dove ero andato Ufficio Statistiche Altri campionati Ok Statistiche squadra Forse qui Coppa Italia Playoff Andiamo a vedere La Serie B Non ci fai vedere Ah La Serie B Eccola qua Serie B Assist Miglior marcatore Della Coppa Italia Serie B Cartellini rossi Cartellini gialli Reti Assist Miglior marcatore Io voglio vedere la classifica Calendario No Finanze No Dove cavolo si vede Altri campionati Ci fai vedere No Ma un giorno fa Vado Comunque ragazzi Dobbiamo affrontare il Verona E siamo un po' messi Inguaiati Perché Allora Giovane vuole andare via Allora Le scrivo per la giornale Sul programma di crescita Di Kovacevic Ci ha raggiunto i nemici fisici Continueremo Vabbè Offerta ritirata Non ci interessa Giovane vuole andare via Yin Yin Vuole andare via Yin Bimbo caro Per me C'è di giovane Vai Via Ma io questo Questo secondo me merita Questo merita Chat dei giocatori Russo Grazie per tutte le prestazioni Va bene Va bene Va bene Sono felice Sono felice Sono felice Allenamento Simuliamo l'allenamento Allora Offerta per il trasferimento Allora Fatecchia 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 Scambio No lo scambio Io non voglio fare uno scambio Amico mio Offerta E ci dai quello? No ragazzi No Rifli di offerta Non voglio Non voglio scambio Voglio solo vendere i giocatori Andiamo avanti Allenamento Vabbè Ci arriveremo ragazzi Alla partita di Coppa Italia Con la sosta Quindi Siamo ben messi Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Napoli 1926 Se ancora non l'avete fatto Vaiù È gratis Ragazzi Io volevo La classifica di Serie B Io voglio vedere la classifica di Serie B E questi non ce la fanno vedere Ora ci ho fatto una stronzata Coppa Italia Scegli competizione Siamo sempre al nonno posto Vaiù Siamo sempre al nonno posto Siamo sempre al nonno posto Bene A due punti dal Perugia Che il Perugia ha perso Quindi vaiù Ora dobbiamo buffare quelle che stanno sopra Perché secondo me Ora è difficile Comunque Iscriviti al canale È gratis Vaiù Ci vediamo al prossimo video Ciao Vaiù